Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Caraceni e il dottor Marronaro per parlare del carcinoma alla vescica e del tumore alla prostata. Ecco, dottor Marronaro, ma l'ecografia prostatica può essere utile per la diagnosi del tumore alla prostata? Sono contento che mi faccia questa domanda così cerchiamo di fare un po' di chiarezza. L'ecografia prostatica transrettale non è un'indagine di primo livello per la prevenzione del tumore della prostata e per la diagnosi precoce perché è un'indagine sostanzialmente poco sensibile e poco specifica. L'utilità sostanzialmente dell'ecografia prostatica transrettale è l'indirizzare la biopsia prostatica, cioè l'utilità sostanzialmente della diagnostica è questa, non deve essere utilizzata come mezzo diagnostico principale. Abbiamo detto il dottor Caraceni come il futuro sulla diagnostica strumentale del tumore della prostata sarà e sarà la risonanza magnetica multiparametrica, chiaramente con maggior costi ma sicuramente con un'attendibilità diagnostica estremamente maggiore. Ecco bene, dottor Caraceni ci vuole dire qual è il tipo di intervento che effettuate nella vostra struttura per quanto riguarda il tumore alla prostata? Noi facciamo la prostatettomia radicale, come ho detto prima si può fare in molti modi, noi adesso la facciamo in laparoscopia quindi senza nessun taglio e con un'adegenza media di 5-6 giorni il paziente va a casa senza catetere e guarito sostanzialmente in ottime condizioni. Rispetto a quando la facevamo a cielo aperto, comunque rispetto all'intervento tradizionale il vantaggio principale è il minor sanguinamento, cioè l'emorragia è molto più contenuta quindi questi pazienti non sanguinano, non hanno mai praticamente bisogno di trasfusioni e tutto questo va al giugamento poi del decorso post-operatorio che diventa più veloce e meno doloroso anche e perciò molto più breve rispetto a quelli che magari hanno avuto un intervento diciamo tradizionale. Ciononostante l'intervento a cielo aperto in casi selezionati in cui può essere necessario magari fare una asportazione di linfonodi molto estesa, questo può essere necessario farlo a volte, sempre più raramente per la verità, però in casi molto gravi in cui è opportuno portare via veramente tanti linfonodi, in questi casi qui ancora oggi è meglio ricorrere all'intervento tradizionale. Bene, ora noi abbiamo le domande come sempre dei nostri telespettatori, la prima domanda la pongo al dottor Marronaro per quanto riguarda il carcinoma alla vescica, stiamo parlando. Allora, Sandro Diosimo dice ad intervalli quasi regolari ho tracce di sangue nell'urine ma i referti sono negativi, di che cosa si potrebbe trattare? Allora, innanzitutto bisognerebbe sapere che tipo di referti sono, a quale indagine questo paziente è stato sottoposto e allora si potrebbe dare una risposta un po' più precisa. È chiaro che la presenza di sangue, l'abbiamo detto prima, insomma è una manifestazione che non va mai trascurata e che va inviata all'attenzione dello specialista. Quindi il consiglio a questo signore è quello che effettivamente se non l'ha fatto di rivolgersi a un urologo e chiarire la situazione. Ecco, che poi magari gli farà fare gli esami di routine. Bene, poi dottor Caraceno abbiamo Giovanna di Fossombrone che dice ho degli improvvisi attacchi con dolore alla parte terminale dell'uretra, ormai da tre mesi ogni giorno in un orario diverso della giornata. L'urinocultura è di esito negativo. Che esami mi consiglia? Questa cosa può dipendere, è una sindrome che non ha una causa sola, diciamo non è facile rispondere così in maniera breve a questa domanda. Diciamo che se la signora è una signora in menopausa e quindi che ha già superato, non ha più un suo ciclo mestruale regolare, la carenza di ormoni estrogeni che si manifesta dopo la menopausa è spesso la chiave per risolvere questi problemi. Altre volte possono essere anche apporti sessuali per esempio a scatenare queste crisi dolorose. Ecco, in quel caso va vista un attimo bene la flora batterica vaginale e vedere se c'è qualcosa che può scatenare. Quindi il consiglio in anni massima è quello di rivolgersi a uno specialista, valutare bene la situazione, sono cose che si risolvono e comunque generalmente non è niente di grave. Bene, dottor Marronaro abbiamo Giulia D'Ancona che dice il protrarsi negli anni di cistiti ricorrenti può causare tumore? Direi di no, trattandosi di una donna le cistiti ricorrenti sono un evento abbastanza comune nel sesso femminile e direi che non sono un fattore di rischio per l'insorgenza del tumore della vescica. Bene, dottor Caraceni abbiamo Giorgio di San Benedetto che chiede quanto l'alimentazione influisce nell'insorgere del tumore alla vescica? Non abbiamo dati che vadano in questa direzione a meno che gli alimenti non contengano noti cancerogeni come l'anidina o gli idrocarburi policiclici che non siano vietati per legge quindi basta leggere l'etichetta degli alimenti e assicurarsi che non contengano queste sostanze. Bene, poi dottor Marronaro abbiamo Ignazio Di Ascoli che dice continuo infiammazioni all'apparato urinario che possono essere causa dell'insorgere del tumore? Questa è una domanda simile alla precedente. Abbiamo già detto che le cistiti ricorrenti semplici non sono un fattore di rischio. L'infiammazione cronica della vescica invece può essere un fattore favorente all'insorgenza del tumore della vescica ma si verifica quasi esclusivamente in particolare i categori di pazienti che sono quelli con portatori di catetra permanenza e i pazienti con vesciche neurologiche che hanno una forma di infiammazione cronica che può comportare l'insorgenza di un tumore che è diverso dall'oroteliale che è quello più comune ma è lo squamo cellulare. È la stessa cosa che si verifica un pochettino anche in Egitto dopo l'infestazione da schistosomiasi. Dottor Caraceni, siamo giunti al termine della trasmissione. Ci vuole dire quali sono i progetti per il futuro? I progetti ne abbiamo molti. Comunque prossimamente in scadenza diciamo che il 14 novembre ad Ancona faremo una giornata intera dedicata proprio al PSA che come avete sentito prima quando parlavamo di tumore della prostata è un esame importante. Quindi lì daremo tutte le informazioni che servono sia agli utenti che ai colleghi di medicina generale che anche a noi stessi specialisti ci scambieremo tra noi le informazioni e credo che sia un'occasione per capire cos'è il PSA, a cosa serve e come va utilizzato. Quindi se non lo conoscete bene il PSA lì potete conoscerlo. La sede è l'hotel Ego di Ancona, sabato mattina dalle 8 e mezzo fino alla sera credo alle 17 circa parleremo di questo argomento che credo sia un argomento molto attuale. Per dare qualche dato dico solo che il PSA nelle marche se ne fanno tantissimi come esami e che la maggior parte vengono fatti a meno la metà vengono fatti in soggetti che hanno oltre 75 anni. Come se fare il PSA oltre 75 anni cambiasse qualcosa nella vita di questi pazienti. Per dirle prima, noi operiamo pazienti fino a 75 anni, dopo i 75 anni non li operiamo più. Per cui in effetti la vita di questi pazienti molto probabilmente non sarebbe comunque influenzata dal tumore della prostata quindi si potrebbero recuperare delle risorse importanti. Bene, ora noi ringraziamo i nostri ospiti per essere intervenuti, il dottor Enrico Caraceni e il dottor Angelo Marronaro. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento. Sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11 mentre il giovedì alle 20.45 sul canale 675. Vi ricordo come sempre che potete telefonare da casa per porre le vostre domande chiamando al numero 071 75 74 372 oppure inviare un'email a onertv.it e come sempre gli ospiti presenti risponderanno a tutte le vostre domande. Vi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube nella pagina UTVRS Canale Salute mentre nella nostra pagina Facebook Canale Salute potete trovare tutti gli aggiornamenti. Arrivederci alla prossima settimana! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!